Ci dà la possibilità di tenere sotto traccia i processi, qualsiasi sia il canale che l'ha generato. Mi è servito per riorganizzare completamente l'ufficio e renderlo molto più lean. È veramente uno strumento eccezionale. Io penso che sul mercato non si trovi niente del genere. I tempi si sono relativamente ridotti. Abbiamo più tempo da dedicare ai nostri clienti. È stato un investimento estremamente positivo in termini di organizzazione. Permette di snellire e creare dei processi di semplificazione della mole di gestione di comunicazioni e-mail. Posso assicurare che già dopo una settimana utilizziamo il 95% delle funzionalità. Ringraziamo Tuetti per l'aiuto che ci ha dato in questa fase di start-up. Ti permette veramente di organizzarti al meglio la vita. Io lo uso da ormai diversi anni e ne sono veramente entusiasta. È un programma geniale.